Le videonotizie di distribuzione moderna. Quest'anno presentiamo novità sia a livello di banchi frigoriferi che di impianti frigoriferi e di servizi post vendita. Sui banchi frigoriferi abbiamo proposto delle soluzioni anche brevettate, quindi sono innovazione pura. Non esistono sul mercato i prodotti che stiamo proponendo e quindi pensiamo di avere un bel gap davanti a noi rispetto anche ai nostri principali competitor. Ma al di là di questo pensiamo che siano novità veramente importanti per i clienti della grande distribuzione organizzata. Sono banchi frigoriferi che hanno delle innovazioni sia dal punto di vista della funzionalità che per quanto riguarda ovviamente la sostenibilità dal punto di vista energetico. A livello di impianti anche qui abbiamo delle soluzioni che sono brevettate, che abbiamo presentato ai clienti pur innovazione anche questa. E per quanto riguarda i servizi post vendita stiamo proponendo delle soluzioni che non esistono nel mercato. Siamo perfettamente in linea con quelli che sono i nostri messaggi di sostenibilità e di risparmio energetico. Tra l'altro sono concetti che noi abbiamo anticipando i tempi e abbiamo proposto ancora più di qualche edizione fa. E quindi siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, stiamo facendo oggi e di quello che avevamo avuto modo di concepire tanti anni fa. Noi abbiamo la capacità di seguire i clienti, di anticipare le loro necessità e di condividere soluzioni, proposte e condivise. Quindi quello che emerge poi sia a livello di progettazioni banchi, di centrali, di impianti, di servizi, sono proposte che trovano riscontro e soddisfazione da parte dei nostri clienti. Grazie.